Siamo pronti per una nuova puntata di Primo Cittadino, ospite di questa sera il sindaco di Cartoceto Enrico Rossi. Buonasera a lei e buonasera a chi si sta guardando in questo momento. Diamo uno sguardo ai numeri di telefono che sono sempre gli stessi 0721 86 14 33 per intervenire in diretta e poi 338 49 68 250 per inviare i vostri messaggi meglio se su whatsapp. Dunque ieri sindaco è partita la grande, la prima giornata dedicata al festival, al cartoceto dopo il festival, un esordio bagnato però insomma a questo evento dedicheremo gran parte della puntata. Direi di cominciare però con i temi di attualità. Già ci sono arrivati dei messaggi che riguardano ad esempio l'Adriatic Link, chiedono se il comune farà le osservazioni a Terna e se le renderà pubbliche. Logicamente voi avete organizzato anche delle assemblee pubbliche pure in via telematica per parlare di questa tematica che è un elettrodotto, il progetto da 270 km per lo più interrati che unisce Marche e Abruzzo. Ci sono state alcune polemiche ma dobbiamo dire che la localizzazione è da definire e cartoceto rimane in un momento un'ipotesi, è così? Sì, è esattamente così, è un argomento che meriterebbe tutta la serata per l'importanza, per la rilevanza, per l'impatto che ha sul territorio e aggiungo ovviamente non tanto e non solo né per cartoceto né per le Marche, anche per quella che è la sua strategicità che rappresenta a livello nazionale. Le cose stanno esattamente così, cerco di riassumerle in un minuto. Noi siamo stati informati a fine 2020 di questa ipotesi progettuale, perché come ha correttamente detto ancora stiamo parlando soltanto di una ipotesi, da esattamente come l'amministrazione comunale di Fano ed esattamente come la regione Marche. Da lì si sono succeduti tutta una serie di incontri prevalentemente di carattere tecnico, per l'appunto tra i tecnici di Terna e i tecnici delle amministrazioni coinvolte, per verificare tutta una serie di vincoli o di caratterizzazioni urbanistiche che potessero rappresentare un ostacolo all'eventuale ipotesi progettuale di cui stiamo parlando. Tant'è che le soluzioni di localizzazione da cui Terna è partito, o perlomeno quelle che sono conosciute dal sottoscritto dell'amministrazione comunale di Cartoceto, erano esattamente tre, due ricadenti sul territorio del comune di Fano e una ricadente per l'appunto sul territorio del comune di Cartoceto. Dopodiché nel mese di maggio-giugno doveva aprirsi quella che è la fase, la cosiddetta fase di consultazione pubblica, per tutta una serie di lungaggini, tra le quali quella legata all'avvio delle indagini archeologiche, questi tempi si sono allungati. Noi siamo venuti a sapere come amministrazione comunale soltanto nei primissimi giorni di agosto quelle che potevano essere le particelle esattamente interessate, ipoteticamente e potenzialmente interessate, dalla localizzazione della stazione di conversione. C'è stata questa prima videoconferenza organizzata da Terna in data 14 settembre, scarsamente partecipata, mi verrebbe da dire quasi per nulla, e da lì come amministrazione comunale abbiamo promosso, grazie anche alla disponibilità di Terna, due incontri direttamente con la cittadinanza. E credo che sia per la Regione Abruzzo che per la Regione Marche siamo stati l'unico comune, voglio evidenziarlo questa cosa, proprio a garanzia della massima trasparenza a voler organizzare queste due assemblee in presenza, proprio perché lo scorso 14 settembre non avevamo registrato la giusta partecipazione. Qual è la posizione dell'amministrazione comunale di Cartoceto? Rispondendo anche alla domanda. Noi siamo fortemente convinti che potrebbero, potevano, potrebbero e possono esistere sicuramente delle localizzazioni migliori. E non mi riferisco soltanto, anzi, non mi riferisco affatto all'ampliamento dell'attuale stazione di conversione già presente in località Carrara. Vede, per un motivo molto semplice, perché i cittadini che opportunamente, e ovviamente comprendendo quello che sono le legittime recriminazioni che stanno facendo rispetto all'ipotesi di localizzazione lungo Via Corvina, anzi, nell'area che sta tra Via Corvina e la Superstada Fano Grosseto, beh, dobbiamo dire che le stesse identiche recriminazioni stanno facendo, e so già che sta nascendo probabilmente un secondo comitato in località Ponte Murello, perché è chiaro che un ampliamento dell'attuale stazione di conversione, ovvero quella in località Carrara per circa 6 ettari, significherebbe per quei cittadini spalancare le finestre di casa e ritrovarsi sostanzialmente la stazione di conversione davanti. Quindi noi, e l'ho ripetuto e ribadito più volte in diverse circostanze, in diverse dichiarazioni pubbliche, ma soprattutto nelle due assemblee a cui accennavo prima, il fatto che probabilmente la zona industriale, artigianale di Bellocchi potrebbe rappresentare il miglior sito opportuno da questo punto di vista, anche con le giuste caratteristiche. Occorre verificare una cosa, per essere estremamente precisi anche su questo, perché Terna più volte è tornato su questo punto di carattere tecnico, ovvero la distanza tra l'eventuale sito di localizzazione e l'attuale stazione di conversione, che qualora maggiore di 5 km, occorrerebbe realizzare un'ulteriore stazione di compensazione, e quindi occorre tenere in conto anche questo parametro. Abbiamo in linea, mi dicono dalla Rigea, una persona che vuole parlare con lei, buonasera. Buonasera. Prego, il sindaco è qualche la spiegazione. Una piccola spiegazione, se era possibile, perché ho fatto a tempo fa, per conto di mio padre, una richiesta di sbloccare un'area aperta, una casa che è in area aperta per svincolarla da vincolo. Ho mandato per posta, raccomandato tutto quanto, poi ho cercato di sollecitare la cosa, ma purtroppo volevo segnalare che mi risulta che c'è il responsabile che c'è solo una volta a settimana e alla fine praticamente sono passati quattro mesi e non riusciamo a capire, a venire fuori da questa cosa. Volevo sapere come si può fare, se si può fare e come gestire. Io di questa cosa ovviamente non era conoscenza perché immagino che i tecnici del cittadino siano direttamente in contatto con l'ufficio preposto, tant'è che correttamente stava dicendo che al momento purtroppo per tutta una serie di vicissitudini legate alla turnazione personale che non stiamo qui a denunciare perché saremo troppo lunghi, è presente soltanto un giorno a settimana e sicuramente questo ritardo di cui parlava è dovuto purtroppo a questa attuale criticità. Ad ogni modo invito cortesemente magari il cittadino domani a mettersi in contatto con la segreteria in modo tale da prendere nome e cognome ed eventualmente capire se è possibile in un tempo relativamente breve chiudere anche questa pratica. Bene, grazie sindaco. Un altro argomento molto caro a lei e a tutti i cittadini, quello delle mura. Beh, su questo insomma devo dire che abbiamo delle notizie abbastanza positive perché credo proprio in questi studi, parlavamo un po' di tempo fa di un milione e mezzo di euro di risorse che eravamo riusciti ad intercettare per la messa in sicurezza, vorrei ben sperare, definitiva di tutta la cinta muraria di Cartoceto tre progetti distinti, la ricostruzione definitiva di piazza Marconi, il restauro e messo in sicurezza dell'ultimo tratto lungo via Cavour e anche il rivestimento di tutto quello che si chiama il bastione pentagonale al di sotto di piazza Garibaldi. Sono partite tutto l'iter delle prime due gare d'appalto per circa oltre 700 mila euro manca ancora la terza per 810, però so che anche quella lì sostanzialmente sta proseguendo il suo iter L'auspicio è con la buona stagione primaverile del 2022 di iniziare tutti e tre i cantieri che sicuramente insomma davvero rappresentano una notizia molto molto positiva rilevante e sicuramente molto impattante per il nostro borgo storico Certo, ricordando anche le sue battaglie storiche Le chiedono se avete intenzione di prevedere uno sgambatoio a Lucrezia perché molte persone devono arrivare anche fino a Bellocchi per far correre i propri cani in sicurezza è un grosso disagio, ci hanno scritto e come disse Gandhi un popolo si misura in civiltà anche da come tratta gli animali Sì, non solo abbiamo intenzione ma io su questo sono sempre stato molto molto chiaro nel senso che oltre al solito sgambatoio così come siamo abituati ad immaginarlo e a pensarlo come amministrazione avevamo sempre in animo, abbiamo sempre avuto in animo di organizzare uno spazio che potesse garantire tante tipologie di attività dedicate ai nostri amici a Quattro Zamp Anche di recente, qualche settimana fa, c'è stato un incontro con alcuni potenziali interessati assieme al Vice Sindaco che sta curando questo progetto abbiamo individuato un paio di aree tra cui una è leggermente più periferica e che potrebbe e dovrebbe ospitare tutta questa serie di attività di cui le parlavo prima differenziate mentre, ma questo sarà oggetto di ulteriore valutazione e verifica più approfondita un'area più centrale rispetto al centro abitato di Lucrezia che invece potrebbe e dovrebbe servire per quelle che sono le necessità di prima mattina Bene, abbiamo un'altra persona che vuole parlare direttamente con lei Buonasera Ci sente? Sì, buonasera Prego Volevo chiedere al Sindaco una piccola cosa, piccola ma anche grande Ho chiamato per sette volte al Comune di Cartoceto, sette volte, perché nella via Borgognina la via che porta verso il ristorante Borgognina ci sono delle luci che le lampadine o sono fulminate e mi promettono che vengono, che vengono, ma siccome la sera adesso è buio, quando si esce è molto pericoloso, le chiedo per cortesia di venire a cambiare questa lampadina Se è possibile, credo che, visto che questi giorni stiamo pagando proprio la Tari ci casca bene Beh, la Tari ci azzecca poco con la pubblica illuminazione ma al di là del fatto che la Tari nulla ci azzecca con la pubblica illuminazione io credo che, insomma, se il problema si tratta, spero, nella sua sostanza solo di cambiare una lampadina, di poterlo fare abbastanza in fretta ma comunque ha fatto bene a dirmelo e me l'appunto per farlo presente poi al personale esterno del settore di competenza sperando che non si tratti, insomma, di un problema magari più gravoso ed è il motivo per il quale forse hanno tardato però, insomma, mi riservo di approfondirlo e poi cercheremo di darle una risposta Rimaniamo su Ultima, perché avete fatto anche di recente dei lavori proprio inerenti alla pubblica illuminazione? Sì, sicuramente anche qui un lavoro importante per circa 81 mila euro l'immagine che stiamo vedendo è quella di via Cerquelle 81 mila euro di lavori di efficientamento della pubblica illuminazione in modo particolare in quella via abbiamo sostituito tutti i vecchi pali con pannello fotovoltaico che ormai da tempo non erano più funzionanti con l'installazione di tecnologia a LED la stessa cosa abbiamo fatto nel primo tratto di via Corvina e la medesima cosa faremo lungo il tratto di via Sant'Anna la strada provinciale interessata anch'essa al momento dalla presenza di pali della pubblica illuminazione con pannello fotovoltaico che ormai davvero da anni non funziona più e questo è un intervento importante per circa 81 mila euro Altro intervento recente riguarda le tre fermate TPL Sì questo è invece un intervento interamente finanziato dalla regione Marche sono dei risorsi che abbiamo intercettato per la riqualificazione di queste tre fermate del TPL come correttamente diceva tutte e tre lungo la via Flaminia l'uno di Rimpetta all'altra che sarebbero queste che stiamo vedendo l'altra leggermente più in direzione Fano e la riqualificazione di queste tre fermate TPL ha previsto anche la realizzazione di camminamenti pedonali che oltre a consentire anche alle persone diversamente abili di accedere facilmente ha sicuramente lungo quei tratti di via Flaminia messo ulteriormente in sicurezza il transito da parte dei pedoni Sindaco buonasera sono un fanese che per divertimento percorre molto spesso le strade del suo comune da tanti anni mi faccio sempre la stessa domanda ma è mai possibile che un borgo che fa della sua bellezza anche la migliore attrattiva abbia delle strade che ormai sono difficili da percorrere ad esempio ci fa riferimento della strada della Morola oltre ad altri che portano a saltare da Lucrezia sulla strada Morola ha perfettamente ragione però è una strada provinciale quindi bisogna rivolgersi al presidente Giuseppe Paolini il quale è stato numerose volte sollecitato in questo senso a mettere mano a quella strada d'altronde purtroppo via Morola è esattamente come via Briglia che invece è comunale che di recente abbiamo riqualificato purtroppo sono delle arterie stradali che risentono tantissimo dei fenomeni frannosi sottostanti e quindi insomma molto spesso si creano questi avvallamenti ce ne sono comunque delle altre alle quali obiettivamente vorremmo quanto prima possibile mettere mano a proposito di capoluogo e di immediate periferia qua stiamo vedendo se credo di riconoscerla si tratta della curva in fondo a Via Ripe che è una vecchia strada che collega il borgo storico di Cartoceto alla frazione di Ripalta di recente abbiamo intercettato dei fondi ministeriali per circa 92 mila euro che sicuramente insomma in primavera dedicheremo alla messa in sicurezza di strade che oggi versano esattamente come questa in situazioni abbastanza gravose e pericolose e dovete già stabilire la lista anche in base alla priorità come sempre la lista è superiore rispetto alle disponibilità economiche ma insomma questo penso che sia purtroppo condizione di tutte le amministrazioni locali è chiaro che dovremmo sicuramente incrementare quelle risorse che abbiamo intercettato direttamente con fondi da bilancio però ecco ne abbiamo diverse ribadisco non solo sul capoluogo ma soprattutto nelle immediate periferie che obiettivamente necessitano ormai di interventi in messa in sicurezza importanti qua invece vediamo un intervento recente sicuramente di una zona che necessitava urgentemente di un intervento di riqualificazione della pavimentazione anche di messa in sicurezza stiamo parlando della strada che porta al parcheggio della retrodelegazione comunale di Lucrezia che è molto utilizzato dalla zona commerciale che si sviluppa lungo la via Flamina nell'abitato della frazione insomma di Lucrezia e sicuramente è stato questo penso un intervento tanto atteso si è trattato di un intervento atteso tanto quanto seppur fatto purtroppo un po' a pezzi e a tratti così come quello di via Cerquelle di cui prima parlavamo per ciò che riguarda l'intervento delle riqualificazioni della pubblica illuminazione altre domande per lei buonasera vorrei sapere se ci sono possibilità di attivare il tempo pieno per la scuola elementare di Cartoceto questo è un tema assolutamente attuale l'assessore Ciacci ci sta lavorando assieme agli uffici so che la scorsa settimana c'è stato un incontro anche con la dirigente un paio di settimane fa c'è stato un nuovo incontro anche con alcuni genitori che sono fatti promotori di questa richiesta una richiesta che trova assolutamente il favore dell'amministrazione comunale credo che se non in questa settimana nella prossima dovremmo adottare l'atto deliberativo che dà il via alla disponibilità visto che insomma ci siamo presi del tempo per verificare tutte quelle che potevano essere i parametri e gli elementi tecnici da valutare rispetto poi agli spazi che occorre garantire soprattutto per il servizio di riflessione scolastica poi a quel punto quest'atto deliberativo l'istituto comprensivo Marco Polo lo invierà agli uffici scolastici e sarà sicuramente l'ufficio scolastico regionale a doversi pronunciare quindi da parte nostra ci sono state tutte le verifiche necessarie adotteremo quanto prima quest'atto deliberativo e poi attenderemo speriamo davvero fiduciosi la risposta positiva dell'ufficio scolastico regionale perché questo significherebbe sicuramente trovare una soluzione definitiva e strutturale a quello che molto spesso e ciclicamente è il problema del mantenimento della classe prima nel plesso scolastico del capoluogo che ci diceva insomma si ripropone un po' tutti gli anni tutti gli anni no ma sicuramente è un problema abbastanza usuale quando finiranno invece i lavori per l'ampliamento della mensa della scuola Ragnetti? i lavori principali sono praticamente terminati perché l'architetto proprio nella giornata di oggi ci ha comunicato insomma questa notizia che tutti attendevamo da tempo purtroppo davvero ci sono stati dei ritardi che capisco che soprattutto per i genitori sono ingiustificabili ma molto spesso quella che è la lentezza della burocrazia genera poi queste problematiche vediamo qua scorrere in sovraimpressione insomma alcune delle immagini dell'ampliamento del plesso scolastico ora mancano ecco gli ultimissimi lavori di rifinitura e poi di nuovo l'allestimento gli interventi di pulizia e speriamo così come credo di riuscire a fare in tempo per poter riprendere il servizio di riflessione scolastica così come insomma tradizionalmente i genitori lo conoscono dal prossimo mese di dicembre mi pare che la nostra delibera che prevede l'esternalizzazione del servizio arrivi al 26-27 di novembre se non ricordo male quindi credo e spero davvero di stare in tempo questo è un intervento molto molto importante insomma che ammonta a circa 140 mila euro che abbiamo finanziato con fondi di bilancio e tornando al tempo pieno è sicuramente un investimento senza il quale il tempo pieno non avremmo mai potuto validarlo come amministrazione comunale perché poi non avremmo avuto gli spazi per organizzare i servizi di riflessione scolastica ma altra notizia importante riguarda anche gli impianti di ventilazione meccanica a maggior ragione questo è il periodo che stiamo vivendo sì questo invece sono 80 mila euro che abbiamo intercettato grazie a questo bando messo a disposizione della regione Marche sono impianti di ventilazione meccanizzata che saranno installati in 20 classi di tutte le scuole primarie del comune di Cartoceto e tra l'altro a proposito di investimenti nelle scuole giova a ricordare a questo punto oltre l'impianto gli impianti di ventilazione meccanizzata e oltre questo ampliamento su Cartoceto di cui abbiamo parlato anche l'intervento di adeguamento della palestra invece del plesso scolastico Mascarucci di Lucrezia che con questo intervento potrà sicuramente recuperare la sua funzione originaria di aula didattica e credo conoscendo bene la situazione della insufficienza della ristrettezza di spazi didattici a disposizione per quel plesso che sarà insomma notizia molto molto positiva per le docenti per tutta la popolazione scolastica quindi per tutti i ragazzi che la frequentano dal momento che tra l'altro gli insegnanti oggi utilizzano la vicina officina della creatività praticamente tutti i giorni per alcune fasce orarie proprio perché non sono sufficienti esattamente questa proprio perché non sono sufficienti gli spazi all'interno della Mascarucci per ciò che riguarda questo intervento invece di riqualificazione c'è un piccolo a piccola percentuale di cofinanziamento da parte del comune di Cartoceto per il resto invece sono fondi ministeriali che abbiamo di recente intercettato e per i quali voglio ringraziare anche la celerità visto che prima abbiamo parlato di qualche volta di difficoltà che ci sono all'interno degli uffici per tutta una serie di mole di lavoro che vanno portate avanti ecco questo è un bando ministeriale al quale abbiamo partecipato nei giorni a cavallo di Ferragosto l'esito è stato positivo però ovviamente è chiaro che vanno ringraziati anche quello che è stato il lavoro e lo sforzo degli uffici in questo senso abbiamo un'altra telefonata per lei buonasera chi c'è in linea pronto la sentiamo perfettamente buonasera volevo parlare con il sindaco io sono da 4 anni che abito qui in zona Canada e ci sta succedendo che ci si rompe in continuazione le condutture volevo sapere dell'acqua scusi l'emozione ho chiamato a Marche Multiservizi mi dicono che dipende dal comune il comune dipende da Marche Multiservizi volevo sapere è possibile cioè prevedibile che rifatte le condutture nuove oppure dobbiamo continuare con queste perdite di acqua visto che l'acqua è preziosa allora se Marche Multiservizi spero che insomma si trattasse di un addetto così malamente informato le ha comunicato che dipende dal comune le ha comunicato una stupidaggine signora per un motivo molto semplice perché il servizio idrico è stato ormai da tanti anni esternalizzato da parte del comune di Cartoceto ma così come da parte di tanti altri comuni della nostra provincia a Marche Multiservizi quindi la manutenzione della rete idrica sia ordinaria che straordinaria e quindi anche gli investimenti ex novo spettano a Marche Multiservizi Dopodiché l'amministrazione esattamente come stiamo facendo ma non soltanto per la zona Canada ma anche per altre zone del territorio comunale può sostanzialmente richiedere su due linee direttrici a Marche Multiservizi quella che è la possibilità di incidere in questi interventi di manutenzione ordinaria straordinaria e di investimento i primi due trovano anche dei canali di interlocuzione diretta diciamo con la stessa Marche Multiservizi mentre per gli investimenti ex novo occorre inserirle nel piano triannale del cosiddetto ATO che è l'ambito territoriale ottimale del servizio idrico e poi di tutte quelle che sono le richieste di tutti i comuni della provincia di Peserurbino è chiaro che via via si cerca negli anni da parte di Marche Multiservizi di eseguire questi tipo di investimenti sul territorio per ciò che riguarda invece la situazione di cui stava parlando la signora è una di quelle tante situazioni che noi ogni tanto sollecitiamo a Marche Multiservizi per far sì che così come è successo qualche anno fa in via Marche piuttosto che in via Le Trento di fronte a numerose ripertute e continue rotture così come quelle che stava rappresentando adesso la signora ci sia un investimento definitivo per la realizzazione ex novo della rete idrica su via Silvio Pellico immagino piuttosto che su via Oberdan della situazione Santa chiedono informazioni sui garage dicono mai ora che li consegnate si riferiscono alle case popolari di Lucrezza anche qui non per scaricare le responsabilità ma la competenza è di ERAP e non del comune di Cartoceto il comune di Cartoceto invece doveva fare un passaggio un ulteriore passaggio affinché insomma potesse trovare accelerazione a questo tipo di attesa che anche questo obiettivamente non trova riscontro da troppo da troppo tempo ovvero incaricare un tecnico per chiudere un passaggio amministrativo l'abbiamo fatto ormai da qualche mese e quindi spero insomma di poter dare una risposta positiva quanto prima al cittadino o alla cittadina interessata però ecco per ciò che riguardava la competenza del comune di Cartoceto l'ultimo tassello l'abbiamo messo con questo incarico al tecnico so che il vice sindaco che ha la delega di competenza sta portando avanti e sta seguendo questa situazione ormai da diversi mesi davvero speriamo di arrivare quanto prima insomma al risultato chiedo al sindaco notizie sulla possibilità di aprire un ufficio postale del capoluogo questa è una richiesta che viene fatta insomma spesso anche nelle scorse puntate di primo settore beh questa è una richiesta non soltanto legittima ma comprensibile perché obiettivamente crea dei disagi alla cittadinanza crea dei disagi anche all'amministrazione comunale stessa che fruisce di tante funzioni o più volte interloquito sia con la direzione provinciale di poste ma anche con gli organi di competenza nazionali affinché si ritornasse alla situazione pre-covid ovvero di apertura per tre giorni alla settimana anche perché trovo completamente contraddittorio che di fronte ad una situazione come quella che vive l'ufficio postale di Cartoceto ovvero senza un adeguato riparo all'esterno e tra l'altro una ristrettezza di quello che è l'ufficio postale far attendere soprattutto la cittadinanza la popolazione anziana nei mesi che andremo tra l'altro a trascorrere di qui a poco all'esterno significa esporre questo tipo di popolazione a dei rischi di salute e non cercare invece di prevenire quelle che sono le buone condizioni di salute quindi davvero non comprendo in nessun modo questo tipo di spiegazione dietro la quale si c'è la poste e che più volte insomma hanno anche comunicato in maniera del tutto formale c'è stata tra l'altro una raccolta firme che la stessa amministrazione comunale di Cartoceto ha promosso cerchiamo ovviamente di seguire costantemente l'evolversi di questa situazione perché è obiettivamente un problema che va risolto e che spero davvero poste comprenda quanto prima anche perché torno a ribadire che la soluzione adottata non ritengo faciliti affatto quella che è la garanzia delle buone condizioni di salute dei cittadini abbiamo tanti messaggi cittadini che chiedono informazioni sulle tasse comunali sulle rotatorie su raccolte firme ma ci dobbiamo fermare per qualche istante di pubblicità a tra poco bene siamo di nuovo in diretta con il sindaco di Cartoceto Enrico Rossi sindaco vado subito a leggerle un po' di messaggi che arrivano per lei parlano intanto di orari assurdi nella delegazione quindi nello sportello di Lucrezia dalle 9.45 alle 12 se uno deve andare in comune bisogna prendere un giorno di permesso le chiedono orari un po' più pratici sicuramente si riferiscono non a tutti gli uffici in generale ma agli uffici dei servizi demografici è purtroppo vero che da lunedì al venerdì lo sportello al cittadino è un po' stretto come arco temporale sulla base degli orari che oggi il personale fa però è altrettanto vero che contrariamente agli altri uffici abbiamo esteso l'apertura anche al sabato mattina proprio per dare la possibilità a chi lavora durante la settimana di potersi recare presso quell'ufficio durante il sabato mattina buonasera volevo sapere se è stata presa una decisione sulla viabilità zona viali la recente asfaltatura sta cedendo per colpa di mezzi pesanti soprattutto in Viale Trieste e poi le chiedono anche informazioni su Via Aspio ma allora per ciò che riguarda la zona viali quella insomma sappiamo che è una zona davvero con una problematicità atavica direi storica di difficile risoluzione è chiaro che così come ho già detto ampiamente altre volte occorrerà sicuramente riunirsi assieme a tutti i residenti prendere una decisione rispetto alla direzione di transito immagino ad Anello creando qualche senso unico di o Via Triestre piuttosto che Viale Cadore piuttosto che Viale Trento perché queste sono le tre vie interessate per cercare quel giusto equilibrio che possa mettere nelle condizioni di le aziende seppur insistono nel territorio di Cogli al Metauro di continuare a lavorare e i residenti di non venire danneggiate spesso le loro automobili parcheggiate lungo la strada preservare comunque alcuni parcheggi e garantire anche quindi quella che è la sicurezza tenendo altresi conto senza dimenticarlo quello che è l'uscita di queste tre vie su Via Sant'Anna che in modo particolare sia per Via Triestre che per Via Lecadore sono abbastanza pericolose quindi occorrerà sicuramente tenere in una giusta sintesi equilibrata che sarà davvero di difficile composizione tutti questi elementi per ciò che riguarda Via Aspio invece prima accennavamo alcuni interventi di messa in sicurezza e di rifacimento della pavimentazione è questa sicuramente nella lista tant'è che prima parlavo di Via Cerquelle fatta seppur a toppe ma la lista comprende anche oltre Via Ripa di cui parlavamo prima Via Valgenga Via Falarco Via Cupa Via Villa Danti insomma sicuramente me ne sto dimenticando alcune ma come dicevo la lista è sicuramente più abbondante dell'entità buonasera buonasera vuole chiedere al sindaco come si può fare qualcosa per spostare i macchinari alla sicca perché sono tutti arrugginiti ma anche molto pericolosi con i temporali quelli della ditta non lo specificano vabbè magari cerco di prendere questo appunto e poi magari lo verifichiamo torniamo un attimo a parlare dell'officina della creatività chiedo un attimo alla regia di aiutarmi anche con le foto perché ci sono alcune buone notizie anche qua con dei servizi che verranno attivati per le famiglie sì questo devo dire che sicuramente sono dei servizi molto molto importanti abbiamo di recente partecipato ad un bando di carattere nazionale grazie alla particolare attenzione del settore servizi sociali che ha seguito questa opportunità davvero con grande dovizia e sono sicuro che i prossimi servizi che partiranno all'interno dell'officina della creatività saranno sicuramente molto molto sentiti apprezzati da parte delle famiglie mi riferisco non soltanto ad alcuni incontri e corsi legati alla genitorialità ma mi riferisco dopo la possibilità di poter trattenere i propri figli all'asilo nido anche il sabato mattina mi riferisco alla possibilità invece questo a prescindere dall'età quindi non stiamo parlando soltanto del nido ma stiamo parlando anche di bambini più grandi di poterli lasciare a personale ovviamente educativo formato presso l'officina della creatività dobbiamo decidere se splittare questo tipo di possibilità in due volte a settimana oppure concentrare il quantitativo di orario che è sotteso a questa opportunità che abbiamo centrato con questo bando nazionale in un unico momento durante l'arco della settimana sono sicuro che soprattutto insomma dalle mamme sarà un servizio molto 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 sentito volevo chiedere al sindaco quando è che completeranno il parco del pilone con alberi panchine e giochi come una parte già esistente e come promesso da tempo per evitare il continuo disagio che si ripresenta tutte le stati e anche tutte le ore di ragazzi che giocano a palloni con schiamazzi eccetera ecco anche il capitolo parchi dobbiamo affrontare ma intanto cerco di rispondere in maniera compiuta e precisa all'osservazione io immagino anche insomma il cittadino che abbia formulato questa domanda io non ho mai promesso questo va detto in maniera molto molto chiara di mettere piante panchine e giochi anche in quella seconda parte del parco di via pilone anzi io ho sempre detto che con le dovute modalità di educazione e di correttezza nella reciprocità ovviamente di quelli che sono i ruoli avere uno spazio di giardino dove soprattutto i bimbi piccoli possano dare un calcio ad un pallone e lo dico soprattutto in uscita da questo periodo pandemico dove anche i bambini si sono dovuti abituare a confrontarsi con i propri coetanei soltanto attraverso schermi tablet e smartphone devo dire che credo che sia quanto mai e ancora di più una necessità importante poi va detto che in quel parco occorrerebbe intervenire sicuramente con un potenziamento dei giochi sulla restante parte di recente ci abbiamo messo mano per la manutenzione già di alcuni di quelli che sono presenti esattamente come abbiamo fatto in altri parchi come quelli che stiamo vedendo in modo particolare mi riferisco al parco del quartiere di Ponte Murello mi riferisco al parco centrale di Martri di Bologna e mi riferisco al parchetto sul retro della scuola di Cartoceto interventi per circa 65 mila euro anche perché questi interventi di manutenzione straordinaria e di incremento dei giochi ha visto anche l'installazione di moderni ed integrati sistemi di videosorveglianza direttamente collegati con la polizia municipale sicuramente sono già in lista nella lista degli obiettivi interveremo anche in altri parchi ripeto con le stesse tipologie di interventi perché questo è soprattutto nei mesi primaverili ed estivi è un problema che si ripete così come ovunque ogni anno ha citato la polizia locale anche a loro sono destinati alcuni veicoli elettrici che sono stati acquistati sì questa è un'altra opportunità molto importante che abbiamo saputo cogliere un bando della regione Marche attraverso il quale abbiamo acquistato tre e quattro veicoli full electric due di questi saranno dedicati alle forze di polizia locale esattamente quelli che stiamo vedendo qua due invece saranno dedicati al personale esterno del settore per Repubblica e Manutenzione del Territorio dunque per gli interventi di manutenzione nel nostro territorio comunale un intervento e un investimento perché c'è anche una compartecipazione da parte dell'ente altrettanto importante che va nella direzione della sostenibilità ambientale che si somma a quella che sarà la prossima installazione in un paio di punti del territorio comunale di colonnine elettriche e quindi insomma anche noi come comune abbiamo voluto fare la nostra parte in questo senso nel suo programma elettorale nei punti che riguardano la viabilità cioè esattamente la progettazione e realizzazione della bretella stradale di collegamento tra via della liberazione e via pilone per alleggerire il traffico all'interno del quartiere fiume esattamente quello che voi avevate scritto ecco qua vediamo il progetto si aggiungerei che oltre a quella funzione cioè per alleggerire il carico di traffico soprattutto pesante lungo via pilone perché purtroppo tutto il traffico che è destinato alla zona artigianale industriale di prima citavamo via Aspio aggiungo anche via Tevere oggi transita davvero in una strettoia che ormai del tutto inadeguata rispetto a quelle che sono le dimensioni dei mezzi moderni ma aggiungo anche un altro obiettivo molto importante che è sicuramente sotteso questo tipo di investimento ovvero la possibilità di creare un giusto supporto di carattere economico ma non solo anche funzionale a quelli che sono i comparti urbanistici che per l'appunto si sviluppano tra via pilone e via della liberazione io sono convinto e siamo convinti come amministrazione che quel tipo di realizzazione lì saprà anche essere da stimolo rispetto all'avvio di nuovi comparti urbanistici e questo significa sviluppo economico significa sviluppo occupazionale significa sviluppo sociale del nostro territorio è un intervento molto importante perché prevede la realizzazione di questa bretella stradale di circa 8 metri di collegamento tra le due arterie di cui una è sicuramente principale perché via della liberazione è quella che collega l'uscita della superstrada Fano Grosseto con la via Flaminia quindi sostanzialmente la principale rete di collegamento del nostro territorio comunale oltre che una rotatoria in fondo a questa bretella stradale attraverso la quale si interconnette non solo la nuova bretella ma anche via Pilone e via Cerquelle siccome però siamo in una fase di completo studio e approfondimento è molto probabile che a quest'opera così come la vediamo qua e che è in fase di studio progettuale come dicevo ne aggiungeremo una seconda di rotatoria ovvero su via della liberazione perché esattamente in quel punto dove intendiamo innestare questa nuova bretella abbiamo rilevato sicuramente dei problemi potenziali di pericolosità di traffico e quindi di transito per cui è molto probabile che creeremo una seconda rotatoria anche in quel punto ma di che tempi si parla più o meno? sicuramente è un obiettivo da centrare in questo mandato io questo insomma ci terrei particolarmente perché esattamente per gli obiettivi sottesi a questo investimento abbiamo disponibilità finanziaria in questo senso per poter fare un investimento molto spesso i comuni lo dico perché so quanto questo possa essere incomprensibile talvolta per i cittadini cioè non avere magari la disponibilità di risorse finanziarie per quelle che sono le cosiddette spese ordinarie e poi magari fare investimenti di diverse centinaia di migliaia di euro come questi piuttosto che di qualche milione di euro come nel caso delle mura urbiche purtroppo queste sono quelle incongruenze che le amministrazioni locali talvolta si trovano a dover dover vivere però ecco abbiamo sicuramente una capacità di indebitamento importante come amministrazione comunale perché il comune di Cartoceto è poco indebitato in questo momento un avanzo di amministrazione che può essere utilizzato anche per questo tipo di investimenti e stiamo parlando di un importo che sicuramente si aggira attorno alle 700 mila euro quindi stiamo parlando di un investimento sicuramente importante vorrei parlare anche del festival quindi le chiedo brevemente di rispondermi a queste due domande le chiedono intanto se è mai stata presa in considerazione l'idea di spostare il mercato settimanale nella nuova piazza si è stato preso in considerazione questo è un tema che ciclicamente torna fuori sicuramente ci ragioneremo ma anche lì ci sono delle problematiche che non sono le stesse di piazza Martire di Bologna ma che purtroppo insomma coinvolgono poi altri elementi di valutazione ci torneremo sicuramente sopra e poi vorrebbero sapere se ci sono novità in merito alla casa cadente in via Marcolinia Caratoceto visto che sta cadendo da anni ad altre abitazioni in una sola settimana ci sono stati tre crogli ecco suppongo sia privata è assolutamente privata il comune può fare non so un'ordinanza antidegrado ma il problema è che vista l'inerzia da parte del privato il comune un paio di anni fa è intervenuto con questa messa in sicurezza purtroppo al momento e mi spiace dirlo con la massima trasparenza non abbiamo novità rispetto agli sviluppi e quindi all'obbligo da parte dei privati cittadini proprietari di poter intervenire speriamo davvero di poterli avere quanto prima perché è una situazione che va sicuramente risolta non soltanto per quello che è l'effetto estetico impattante all'interno del centro storico tra l'altro stiamo parlando della casa di rimpetto all'ingresso del palazzo della sede municipale ma soprattutto e sicuramente il cittadino fa riferimento a questo a quella che è la sicurezza e anche la salubrità di quella che è la casa adiacente rispetto a questa qua che è cadente come mai domenica ha smosso le forze dell'ordine per impedire al comitato di raccogliere in maniera pacifica le dicono le firme alla fiera dell'olio e dell'oliva guardi io di solito non sono abituato a cadere nelle provocazioni però voglio rispondere in maniera molto molto chiara io non ho smosso assolutamente nulla i cittadini avevano fatto una comunicazione alla questura dicendo che avrebbero raccolto queste firme in uno spazio privato so che c'è una comunicazione del tutto informale da parte del responsabile del settore polizia municipale che chiede cortesemente se era possibile farlo esattamente 30 metri al di fuori del perimetro della manifestazione esattamente come è successo per tutti gli altri anni cioè da 44 anni a venire e quindi non soltanto nell'ambito di questa raccolta raccolta firme evitando l'interno della manifestazione a questa comunicazione a questo gentil invito poteva essere risposto sia in modo affermativo sia in maniera negativa per cui nessuno ha fatto pressioni su nessuno tantomeno il sottoscritto ha chiesto o ha smosso le forze dell'ordine anzi inviterei il cittadino che so che sono 48 ore che cerca di interessare più cittadini compresa la minoranza con la quale insomma mi sono anche confrontato in questo senso di evitare questo tipo di affermazioni così come altri tipi di affermazioni che vedono o vedrebbero l'amministrazione potenzialmente interessata da un punto di vista economico assieme a Terna per la realizzazione dell'Adriatic Link sul sito del territorio comunale di Cartoceto perché fin tanto che restiamo come dire nella manifestazione di quelle che sono le proprie posizioni legittime di ciascuno è chiaro che il tutto è rispettabile e può essere manifestato nella piena libertà nel momento in cui però si intentano delle illazioni che sforzano anche in altri ambiti insomma io cercherei di stare un attimo attento prima di fare affermazioni un pochino pericolose le chiedono brevemente anche se verrà asfaltata via Montecchio se pensa possa rientrare via Montecchio l'abbiamo asfaltata a freddo una parte di essa per essere precisi esattamente un anno fa quindi penso spero che il cittadino magari si riferisca alla seconda parte che era leggermente però meno rovinata rispetto al primo tratto in cui siamo intervenuti lo scorso anno ok iniziamo a guardare qualche immagine di Cartoceto dopo il festival ieri questo taglio del nastro eccole qua le immagini di fianco a lei i sindaci di comuni limitrofi una manifestazione organizzata dal comune di Cartoceto insieme alla Proloco cittadina un evento che comunque proseguirà anche domenica prossima tante le novità tante iniziative messe in campo quindi un gran bel lavoro ma che riesce a coinvolgere appunto produttori frantoi con le visite abbiamo visto visitatori anche provenire da fuori regione dunque è un bel successo un esordio bagnato intanto quest'anno e questo penso che insomma sia fuori da ogni logico dubbio sicuramente nonostante ecco il tempo non ci abbia assistito felicemente però è stata una domenica particolarmente positiva o perlomeno insomma questo ho registrato dagli stendisti presenti davvero numerose le persone provenienti da fuori regione con le quali ho avuto modo anche insomma di salutarci o di chiacchierare e questo non può fare altro che piacere semplicemente per un motivo perché questa manifestazione nel 2014 avevamo deciso la storica manifestazione della mostra al mercato dell'olio dell'oliva che ricordo compiere 44 anni e quindi come la definisco abbondantemente maggiorenne abbiamo deciso nel 2014 di rieditarla secondo questa formula festivaliera quindi esattamente come diceva lei aggiungendo tante attività di carattere artistico e musicale soprattutto prima fra tutti quelli che sono gli spettacoli all'interno del teatro del trionfo e questo ci ha dato ragione per un motivo perché tanti target di visitatori anche provenienti e soprattutto provenienti da fuori regione che magari mai sarebbero venuti a cartoceto soltanto per la mostra del mercato dell'olio e dell'oliva siamo riusciti ad intercettarli e a come dire catturare la loro attenzione è chiaro che il cuore centrale e pulsante di questa manifestazione resta sempre Piazza Garibaldi con tutti gli espositori tutti i produttori in modo particolare di olio ma non soltanto di olio e soprattutto ricordiamo che la DOP cartoceto è anche l'unica DOP olearia di tutta la regione Marche prima lei accennava anche alla presenza dei sindaci che ringrazio perché voglio sempre ricordare che se la denominazione è DOP cartoceto ma il cosiddetto territorio dell'areale della DOP cartoceto non ricomprende soltanto il nostro territorio ma anche parte del territorio fanese quello del comune di Monbaroccio e anche di gran parte del comune di Colli di Colli al Metau quindi domenica si replica anche se c'è un altro spettacolo al teatro del trionfo tra poco ne parleremo il mercato che logicamente sarà sempre presente in piazza anche altre iniziative di arte o dedicate alle famiglie ai più piccoli assolutamente sì tra l'altro domenica al teatro del trionfo assieme a Bungaro si esibisce un fanese Marco Pacassoni quindi insomma invitiamo chi ci ascolta a maggior ragione giochiamo in casa a partecipare e ad acquistare gli ultimi biglietti disponibili poi tante le altre attività dedicate giustamente ai bambini con la premiazione di tale quale art con gli spettacoli di piazza 20 settembre dedicati esattamente ai bambini con la piazzetta del gusto mi riferisco a piazzetta Guerrassi che in questo percorso di degustazione di tante prelibatesse vede anche la presenza di un intrattenimento musicale sicuramente molto molto carino per tutto il pomeriggio dalle 17 alle 19 e 30 si ripete anche la musica in marcia che abbiamo visto anche durante il PG molto simpatico e tra l'altro tra l'altro domenica insomma direi che musica in marcia perché i componenti della fan casino cioè questa marching band che pervaderà tutto il centro storico mi pare saranno 15-16 elementi quindi sicuramente faranno un bel baccano per tutti i viottoli del centro storico di Cartoceto senza dimenticare quella che a mio modo di vedere è un po' la novità più spettacolare più sensazionale dell'edizione di quest'anno di Cartoceto dopo il festival ovvero il videomapping di piazza Garibaldi dedicato a padre Stefano Pigini ieri in queste tre proiezioni che ci saranno anche la prossima domenica alle 17-35 alle 18-20 alle 19-15 e che davvero daranno la possibilità ecco qui stiamo vedendo qualche immagine di vivere il centro storico come di recente e forse come mai lo abbiamo visto perché spegneremo tutto il centro storico e lo faremo vivere con questa magica spettacolarità insomma di luci colori e cromaticità che si intersegono l'uno con l'altro e devo dire che non soltanto i visitatori insomma che vengono da fuori comune anche da fuori ragione come dicevamo prima ma anche i residenti stessi insomma mi hanno detto ieri di essersi commossi alla visione di questo spettacolo di palastro del popolo e quindi insomma sicuramente una novità molto molto importante finanziata dalla regione Marche dunque invitiamo tutti i nostri telespettatori a partecipare domenica prossima a Cartoceto dopo il festival un evento tra l'altro di cui fanno tv e media partner sindaco grazie per essere stato con noi grazie a voi e grazie soprattutto al contributo di coloro i quali sono intervenuti con le proprie segnalazioni un ringraziamento anche a Riccardo Sora e a Cristiana Guerra e regia buona serata a tutti voi l'informazione torna come sempre domani mattina in diretta alle 7 con la rassegna stampa grazie a tutti